Barone, la posizione dovrebbe essere questa. Cosa sono questi schiamazzi? Senti anche lei? Benvenuti alla più grande stagione dei gentlemen. Un secondo secondo che ha perso il titolo immobiliare. Immobiliare? Eh, sei proprio cento per cento fica. Maledissimo! Non è mai finito! Credo sia il momento di tirare fuori gli attributi. E dove li ha comprati?